Cos'è FamiSafe? Rintraccia gli spostamenti dei tuoi figli, visualizza la cronologia delle posizioni, in modo da sincerarsi che non siano stati luoghi insoliti. Imposta i limiti geografici delle zone sicure e ricevi notifiche quando i tuoi figli entrano o escono dai confini. In base alle diverse situazioni, è possibile controllare il tempo di permanenza sullo schermo per limitare l'uso dei dispositivi, ad esempio a scuola o al momento di andare a letto. Monitora l'utilizzo del telefono da parte dei bambini. Controlla la frequenza con cui i tuoi figli usano il telefono durante la giornata. Blocca l'uso delle app durante lo studio o il sonno. Tieni i bambini lontano da potenziali minacce online bloccando qualsiasi sito web indesiderato o inappropriato, contenuti dannosi come pornografia, gioco d'azzardo, violenza, eccetera. Una volta installata l'applicazione, è possibile impostare tutto dal tuo dispositivo in modo flessibile. Posizione, monitoraggio e blocco delle app, filtraggio web, controllo del tempo passato davanti allo schermo e altro ancora. Ama i tuoi figli e tienili al sicuro.